Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. Si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa parrocchiale di San Pelino i funerali della piccola Alessia, la bambina morta travolta dalla trave dell'altanena con cui giocava mercoledì scorso. Già ieri il ferretro era stato portato nella chiesa della piccola frazione di Avezzano. Parenti e amici hanno vegliato in preghiera per tutta la notte in attesa dell'ultimo saluto. Oggi lutto cittadino nella città marsicana. Intanto la procura continua a indagare sulla vicenda. Il servizio di Stefano Recanati. Ale, sarai sempre nei nostri cuori. Ti vogliamo bene. Così uno striscione apparso sulla ringhiera della chiesa parrocchiale di San Pelino, frazione di Avezzano, ha accolto l'arrivo nel pomeriggio di ieri della bara bianca della piccola Alessia, morta a 12 anni nel parco dell'oratorio travolta mercoledì pomeriggio dall'altanena sulla quale stava giocando. Intanto si è appreso che la bambina è deceduta per i traumi gravissimi alla testa. Proprio per questa evidenza la procura non ha disposto l'autopsia ma solo la ricognizione cadaverica effettuata dal medico legale Cristian Dovidio. In un clima di grande commozione il ferretro è stato posizionato al centro della chiesa. Accanto è stata installata una gigantografia della bambina in abito bianco nel giorno della prima comunione. Dietro la bara bianca i genitori Petrit ed Eda e la nonna insieme alla sorella maggiore di Alessia, Giulia, 17enne. La salma è stata avvegliata tutta la notte dagli abitanti della frazione e dalle tante persone arrivate dall'Albania, di cui sono originali i genitori. Presente è anche il giovane don Antonio Allegretti, inconsolabile, in lacrime. Il parroco è fra le tre persone indagate per il crollo della struttura. Gli altri sono il vice sindaco di Avezzano Domenico Di Berardino e il dirigente comunale Antonio Ferretti. Secondo gli inquirenti si tratta di avvisi di garanzia tecnici, comunicati oralmente ai legali, dal momento che le indagini continuano, in particolare sull'esame della proprietà dell'oratorio e sulla convenzione con il comune di Avezzano. I funerali si svolgeranno proprio nella chiesa all'interno dell'oratorio dove si è consumata la tragedia. Intanto ad Avezzano è lutto cittadino e sono state sospese tutte le iniziative di settembre in segno di vicinanza. Il questore di Pescara Luigi Liguori ha disposto il diniego della carta di soggiorno come familiare di cittadino UE richiesta dal 48enne albanese attualmente recluso nel carcere di Pescara per aver aggredito una donna lo scorso 20 luglio all'interno di una palestra. Il 2 agosto l'albanese era stato arrestato in flagranza di reato in concorso con un altro soggetto in quanto trovato in possesso di 160 grammi di cocaina, una pistola modello Colt risultata oggetto di furto nonché di diverse fiale di farmaci anabolizzanti vietati. A seguito di questi fatti il 5 agosto scorso il questore Liguori aveva disposto nei confronti dell'uomo la misura di prevenzione dell'avviso orale. Ora è scattato il diniego della carta di soggiorno. Cambiamo pagina, ora la politica, il Movimento Italia Sovrana e Popolare ha presentato questa mattina a Pescara i candidati alle elezioni politiche per la circoscrizione Abruzzo. Il servizio di Paolo Renzetti. Italia Sovrana e Popolare ha presentato questa mattina nella sala consigliare del Comune di Pescara i candidati nei collegi abruzzesi per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Nel programma del Movimento Politico che vede schierate al suo interno altre formazioni c'è la richiesta di uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dalla Nato, 9 i punti programmatici. So che è un programma forte di queste cose, forse non siamo abituati a sentir parlare, però noi nasciamo proprio per quello perché abbiamo un'analisi decennale su questi fenomeni, sulle problematiche che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Negli ultimi mesi soprattutto, ma direi da anni, anche da tutta la nostra storia fondamentalmente, ricordando anche Enrico Mattei abbiamo dei grossi problemi che derivano dall'appartenenza dell'Italia alla Nato, che forse non è mai stata un'alleanza difensiva, ci ha portato a fare, a partecipare a guerre in tutto il mondo che non ci appartenevano e che dovevano comunque essere evitate. E in questi ultimi mesi stiamo vedendo che il servilismo nei confronti della Nato e nei confronti degli Stati Uniti ci sta portando a una politica internazionale e che va contro tutti gli interessi dell'economia italiana e dei cittadini italiani. Parlo delle sanzioni ad esempio, che sono sanzioni non contro la Russia, ma si stanno riverberando contro i cittadini italiani, contro l'economia italiana e ci si appresta ad arrivare a un autunno che sarà disastroso per tutti i cittadini italiani, per le famiglie, per l'implese, parlo delle bollette energetiche, ma anche qui non solo perché il problema è vasto e viene da lungo tempo, abbiamo un autunno in cui noi rischiamo veramente di morire come Paese. Le prospettive non sono buone e io sono sconcertato dall'atteggiamento anche dei nostri colleghi candidati, degli altri partiti, di quello che noi definiamo un partito unico, perché è quello che governa in Italia da 30 anni, che prendono tutto con molta leggerezza, sentiamo parlare di provvedimenti come tetti ai prezzi dell'energia, non so in che modo si possano attuare, oppure alcuni sostegni, addirittura si parla di realizzazioni, non è questo quello di cui ha bisogno il Paese, il Paese ha bisogno di ritrovare una politica statale, quindi veramente statale, che riprende in mano le sorti dell'economia, le sorti del Paese, riprendendosi la leva monetaria, la leva fiscale, una vera sovranità, un'indipendenza nei confronti degli altri alleati, sia europei che statunitensi fondamentalmente. Quindi per questo è uscita dalla Nato, ma anche è uscita dall'Unione Europea, Maastricht per noi è stato un cappio, noi sentiamo parlare di tante speranze che sono riposte in questo PNRR, il PNRR sono sostanzialmente in parte soldi che vengono dall'Europa, ma che abbiamo dato noi all'Unione Europea. Sono 604 i nuovi positivi in Abruzzo, positivi al Covid, sono emersi dall'analisi di 955 tamponi molecolari e 3636 test antigenici eseguiti appunto nelle ultime 24 ore. Due i nuovi decessi, mentre secondo l'ultimo report i guariti sono 531, gli attualmente positivi sono 27.255, di cui 130 ricoverati in area medica, più uno rispetto a ieri, 7 in terapia intensiva, dato invariato. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila, 175, 136 in quella di Chieti, 122 in quella di Pescara, 135 in quella di Teramo, 18 di fuori regione, mentre per 18 sono in corso delle verifiche. Presa d'assalto dai vandali l'ex casa dello studente di Chieti nel cuore della villa comunale e di proprietà della regione Abruzzo a denunciare lo stato di abbandono, un video postato sui social. Vediamo il servizio. Cancello aperto e degrado dappertutto. Stiamo parlando della situazione in cui versa oggi l'ex casa dello studente ed ex centro servizi culturali della regione Abruzzo di Chieti, chiuso dopo il terremoto del 2016. L'indignazione popolare scattata a seguito del video denuncia realizzato dal regista Fabrizio Franceschelli è postato sui social che in poche ore è diventato virale. La prima cosa che rimbalza agli occhi dell'autore del video sono i diversi volumi dell'enciclopedia Treccani con valore di mercato che può superare il migliaia di euro usati come spessori per rialzare trampolini con cui saltare con gli skateboard. E poi tanti libri lasciati marcire in mezzo a pozzanghere d'acqua, estintori, non mancano anche segnali stradali. La cosa non è certo migliore all'interno. Porte di velte, vetri rotti, scaffali buttati a terra oltre a scritte su scrivanie e muri. Come detto il video ha fatto subito il giro del web, scatenando di conseguenza anche la reazione della politica. Nonostante i soldi spesi per la sua ristrutturazione, la regione Abruzzo ha ritenuto di mantenerlo chiuso e in preda un progressivo deterioramento. Il commento del sindaco Diego Ferrara e del vice sindaco e ossessore alla cultura Paolo De Cesare. Come amministrazione comunale proseguono, abbiamo le mani legate, non essendo l'ente proprietario, e nulla possiamo fare se non sollecitare chi di dovere. È indispensabile che la struttura torni attiva perché si trova nel cuore della città e non può restare in queste condizioni. La regione faccia presto. Noi, concludono gli amministratori, siamo pronti a fare la nostra parte affinché quegli spazi, patrimonio di tutti, non finiscano preda del tempo e dei vandali. Ad incalzare la giunta Marsiglio anche le opposizioni in consiglio regionale. Questa condizione di degrado rappresenta il fallimento di una visione politica miope, concentrata fin dal suo insediamento più nella spartizione delle poltrone che nella gestione della cosa pubblica. E' il duro messaggio inviato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella e per cui la situazione in cui versa la biblioteca sarà oggetto di un'interpellanza regionale. A distanza di 24 ore il degrado, quantomeno quello del piazzale, è stato ripristinato. Così come testimoniano anche le immagini. A chiederlo al presidente Marsiglio, il gruppo consigliare comunale di Fratelli d'Italia, ora al lavoro per riconsegnare la struttura al pubblico per un uso collettivo nel più breve tempo possibile. Due giovani di 22 e 23 anni sono rimasti feriti la notte scorsa a Pescara dopo essere stati investiti da un'auto all'uscita di un locale della Riviera. La vettura era condotta da un 24enne che poi si è fermato. I due giovani investiti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile. Gli agenti delle volanti e della polizia stradale intervenuti prontamente si sono occupati dei rilievi. Le cause che hanno determinato l'incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto ci sono radunati numerosi giovani che usciti dai locali si sono avvicinati, incuriositi sul luogo dell'incidente. Ciò non ha impedito agli operatori di soccorrere le persone investite e acquisire tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti. Restiamo a Pescara. Ha approvato dal Consiglio Comunale un ordine del giorno a firma del Movimento 5 Stelle per l'istituzione del Comitato di Gestione della Riserva e la nomina del Direttore della Riserva Naturale della Pineta D'Annunziana. Vediamo. Passato in Consiglio Comunale a Pescara un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, consigliere Alessandrini, che chiede l'istituzione di un Comitato di Gestione per la Riserva D'Annunziana e la nomina di un Direttore Generale. Sì, esattamente. È stato l'ennesimo tentativo da parte del Movimento 5 Stelle di riuscire a strappare da un monopolio politico la gestione e la direzione della Riserva D'Annunziana. C'è bisogno di esperienza, di persone capaci, di chi riesce, come dire, col proprio lavoro e la propria professionalità a dare le indicazioni migliori alla politica per la gestione di questo patrimonio naturale della nostra città che deve essere assolutamente tutelato, conservato e gestito al meglio delle proprie possibilità. Prosegue il lavoro per la ripertura dell'intera pineta d'Annunziana a poco più di un anno dall'incendio. Insomma, la speranza di tutti i pescaresi, di tutti i cittadini è di poter riavere completamente e totalmente a disposizione questo polmone verde cittadino? Assolutamente sì, c'è da lavorare uniti verso sicuramente l'ampliamento, la fusione delle due pinete che oggi hanno una lingua di asfalto che le divide. Questo purtroppo però è stato fatto a scapito di un'altra area della riserva come quella che costeggia via Pantini. Tutti possiamo vedere qual è lo stato oggi del cantiere che ha sostanzialmente distrutto un'area verde vergine, anch'essa parte della riserva d'Annunziana contro ogni tipo di regolamentazione anche regionale che preserva la riserva. Sentiamo quindi da una parte purtroppo l'amministrazione dire che vuole ampliare, mettere a dimora nuovi alberi, dall'altra distruggere piante che hanno quasi 100 anni per lasciare spazio ad una lingua d'asfalto. Noi in consiglio continuiamo sempre invece a puntare l'attenzione verso il verde, la rinaturalizzazione e l'importanza di mantenere in vita e di gestire le piante che oggi ci sono perché l'aspetto ecologico e l'importanza ecologica di piante che hanno ormai un'età avanzata è molto molto diversa da piantine di pochi mesi che vengono piantate da zero. Quindi noi in consiglio continuiamo la nostra battaglia proprio verso l'ambiente, la gestione e la manutenzione del patrimonio attuale e siamo contenti finalmente di aver portato a casa adesso questo piccolo contributo come la nomina appunto di professionisti per la gestione della riserva d'Annunziana. E' sempre a Pescara, nove giorni dal suono della prima campanella, l'amministrazione comunale sta ultimando i lavori per la riapertura delle scuole, tutte faranno la settimana corta, vediamo il servizio. Mancano nove giorni all'apertura dell'anno scolastico, al suono della prima campanella come si suol dire. Lei ieri ha incontrato i dirigenti scolastici, i presidi delle scuole di Pescara, qual è la situazione? Allora, ieri mattina abbiamo incontrato assieme al mio staff che segue tutta l'edilizia scolastica, tutte le progettazioni per le scuole, abbiamo incontrato i dieci presidi con i quali abbiamo condiviso alcune scelte. Loro inizieranno l'anno scolastico tutte quante il 12, tranne il comprensivo 1 che comincerà il giorno 8, però abbiamo condiviso un po' vari argomenti. Innanzitutto la settimana corta che ormai attueremo in tutti i comprensivi di Pescara, noi ieri abbiamo fatto una delibera che ho inviato alla preside del comprensivo 2, Maria Grazia Santilli, che sottoporrà all'attenzione del Consiglio d'Istituto, quindi prenderanno una decisione tra oggi e lunedì. Tutte le altre scuole invece apriranno i battenti il lunedì e chiuderanno il venerdì, quindi sabato e domenica saranno chiuse tutte le scuole, comprese gli uffici. Questione Covid, quali sono le direttive, Assessore? Allora, per adesso si parte in tranquillità, l'unico problema che io porto ai presidi è stato quello della mensa, di continuare a sfruttare e far mangiare i ragazzi nelle classi. Fra un mese, quando ci renderemo conto, speriamo che tutto torni alla normalità, posseremo tornare nei refettori. Per chiudere, Santilli, si parla di risparmio energetico, di termometri, dei termosifoni non oltre i 19 gradi, insomma, quali sono le direttive governative? Allora, le scuole non saranno toccate, continueranno ad avere la temperatura, come era già l'anno scorso, tarata a 19 gradi e si accenderanno i termosifoni regolarmente, come sempre è stato, quindi da lunedì a Verdi ci sarà un orario consono per far sì che i ragazzi non si ammalino e questa è la priorità per noi. Ed ora la pagina dello sport, domani sera inizierà la stagione del Pescara, subito un match di cartello all'Adriatico contro l'Avellino, ore 20 e 30, assenti i soli Crecco e Aloi, mentre gli ultimi arrivati, Palmiero e Brosco, partiranno dalla panchina in difesa Ingrosso e Pellacani, Delle Monache e Giabua favoriti su Colai e Craia. Stamani il tecnico Biancazzurro Colombo ha presentato il match e ha parlato dei tifosi che sempre in mattinata hanno incoraggiato la squadra durante la rifinitura all'Adriatico. Ascoltiamolo. Finalmente si gioca, è la prima cosa che mi viene da dire. Poi è chiaro che c'è grande motivazione e grande voglia di giocare davanti al proprio pubblico. Anche oggi c'è stata la testimonianza della Curva Nod di grande vicinanza e di grande sostegno a questi ragazzi, a patto che si rispetti un po' il dogma che tutte le tifoserie vogliono, che è quello di onorare la maglia. Ed è un dovere professionale di ognuno di noi, al di là della piazza. Quindi ha maggior ragione che si gioca in un contesto come quello di Pescara. Come ci si arriva? Si arriva sicuramente con un discreto livello di preparazione. Le amichevoli hanno avuto degli alti e dei bassi come è normale magari che ci sia in preparazione. Ora con il mercato si è completata la rosa. Chiaramente chi è appena arrivato ha bisogno di tempo per trovare la forma, altri potrebbero essere già a buon punto perché De Zogus ha giocato, comunque lo stesso Vergani si è sempre allenato con il gruppo squadra, forse gli manca la partita. Per cui ci sono varie condizioni di chi è arrivato a tenere sott'occhio. Per il resto poi abbiamo, come hai detto bene tu, un big match pronti via dove conterà, secondo me, soprattutto una cosa. A un certo punto, chiaro che l'approccio fa sempre la differenza, ma a lungo andare dove la condizione potrebbe venire meno da entrambe le parti, chi avrà più voglia di portare a casa la partita attraverso la determinazione, la capacità di soffrire, la determinazione, che devono essere armi comunque sempre valide, ma a maggior ragione in queste prime fasi di una stagione dove la condizione può essere non ottimale, diventeranno fondamentali. Perché mi aspetto magari che verso la fine le squadre possano, mi auguro di no la nostra, però è tutto possibile che si allunghino gli spazi e lì ci sia un'altra partita rispetto a quello che può essere l'inizio. Avellino è una squadra simile alla nostra, nel senso che sta vivendo un momento di cambiamento radicale della Rosa, ha preso dei giocatori mix con giovani che l'anno scorso hanno fatto un buon campionato, Guadagni, Russo, Ricciardi e comunque hanno delle sicurezze, delle certezze, quindi grande rispetto e poi tutto qui, nel senso che poi anche noi dobbiamo incutere il giusto timore, ma lo dobbiamo fare al di là del blasone del nome attraverso una prestazione, attraverso una prestazione che deve essere fatta di sostanza ancora prima che di tecnica. In Casavellino vigilia agitata dalle contestazioni di una tifoseria delusa dal mercato, l'allenatore Taurino si dice però stimolato dall'iniziare contro un avversario forte. Irpini con il 3-4-3 con Murano a guidare l'attacco, sostenuto da Di Gaudio è uno tra Guadagni e Canutè. Ascoltiamo il tecnico degli Irpini, Taurino. Premesso che non ci sono squadre forti e squadre deboli, non ci sono partite semplici, non è una frase fatta ma il calcio insegna che è così a tutti i livelli, sicuramente andiamo ad affrontare una squadra che ha grande blasone come noi, una squadra allestita per fare un campionato importante, con una rosa importante, con un allenatore di grandissimo valore che ho incrociato pure lo scorso anno, un allenatore che probabilmente lo scorso anno ha fatto un lavoro straordinario a Monopoli, è una persona serissima, ho avuto il piacere di conoscerlo e devo dire che ho grande stima e rispetto, quindi sicuramente l'impegno sarà un impegno subito probante, un impegno che ci metterà a dura prova, però penso che sia forse, non dico la partita ideale, ma una delle partite ideali, una delle partite che avrei voluto giocare come prima, perché sono così nella vita, mi voglio misurare subito, voglio capire subito a che punto è la squadra, sono curioso di vedere i ragazzi all'opera in un impegno complicato, sono voglioso di vedere come reagiamo alle tante difficoltà che avremo, che sono inevitabili, e dalla partita di domani io penso di… potremmo tirare fuori tante indicazioni, tante indicazioni, soprattutto da quello che sarà il nostro atteggiamento, non tanto dal risultato che ovviamente tutti vorremmo vincere, vorremmo vincere noi, vorrebbe vincere Pescara, tutte le squadre partono in una partita, tutte le squadre giovano per vincere, noi che ci raccontiamo le barzellette o le favole, sono curioso di veramente di vedere i ragazzi all'opera domani, contro, ripeto, una grande squadra. E domani scatta il campionato di Serie D, squadra in campo a partire dalle ore 15, nessun derby in programma, ma tanta curiosità per vedere all'opera le cinque cugine abruzzesi, avvio Casaningo per Chieti, Pineto e Notaresco, in trasferta Avezzano e Vastese, il servizio. Dopo i primi match di Coppa che hanno aperto la stagione ufficiale di Serie D, domani sarà tempo di campionato, con la prima giornata che nel Girone F non riserva derby tra squadre abruzzesi. Ovviamente tanta curiosità per vedere all'opera le cinque cugine, tra le quali il Pineto e la squadra costruita per un campionato di vertice, il Notaresco in ritardo che lotterà per la salvezza, e poi le tre compagini che rappresentano piazze di prestigio e bacini più ampi, ma che dovranno trovare una loro dimensione, che in questo momento, specie per Chieti e Avezzano, non sembra essere oltre la lotta per la salvezza. Il Chieti, ad esempio, è ancora un cantiere. Appena ieri la neosocietà, presieduta dall'imprenditore torinese Ettore Serra, ha annunciato gli innesti del centravanti ex notaresco Giuliano Mo a Michele Cesario e del centrocampista Lorenzo Bregasi, ex Castelnuovo, lo scorso anno al Muravera, e del 19enne portiere Cristian D'Ambrosio, ex Teramo, squadra che non sembra granché rinforzata, in attesa che sia il campo a parlare. Domani all'Angelini la sfida contro il vasto Girardi di Tommaso Coletti, reduce da una doppia vittoria nei primi turni di Coppa Italia. Debutto in trasferta per la Vastese, che giocherà in casa del Tolentino, entrambe le squadre hanno cambiato molto dopo la bella stagione passata. La Vastese è ripartita dalla coppia Ferrazzoli-allenatore Marinucci-Palermo-DS, e con appena due giocatori confermati, Altobelli e Sansone, per la prima della vittoria. Ferrazzoli confermerà il 3-5-2, ma non è ancora certo l'impiego del bomber Ricciardo, non ancora al 100%, tanto che davanti dovrebbe toccare ancora la coppia Di Nardo-Calì. Mentre mancheranno Greselin e Mazzotti, Ballottaggi tra i pali, Pitarresio del Giudice, e in mediana, Menna o Crisoverghis. Dopo aver vinto le derby di Coppa, sempre al Mariani-Pavone, il Pineto cerca i primi tre punti stagionali, al cospetto della neopromossa Termoli, in dubbio il centrocampista Losicco, assente per squalifica il centrale Nonni, davanti alla coppia del gol Maio Allegretti. Beh, chiaro, è la prima partita, di là dell'importanza, è una gara che tutti aspettano, diciamo, con un certo, anche un po' di ansia, un entusiasmo, perché si vuole partire bene, è un mese e mezzo che lavoriamo per preparare questo inizio di campionato, speriamo di farci trovare pronti in questa sfida importante contro il Termoli. È una squadra, è una piazza importante, che ritorna in serie di dopo qualche anno, e sicuramente ci aspetta una partita difficile, perché è una squadra già collaudata, che ha vinto un campionato di scioltezza, diciamo, il campionato d'eccellenza molisano, quindi già, al di là dell'entusiasmo della mia promossa, è un organico già collaudato, quindi ci aspetta una partita sicuramente difficile. Anche il notaresco arriva alla prima di campionato con la scritta Lavori in Corso, dopo un'estate ricca di dubbi a livello societario, Fugati, con la cessione delle quote da Salvatore Di Giovanni e Luigi Di Battista, ne ha risentito l'allestimento dell'organico, affidato a un tiziano De Patre, voglioso di essere profete in patria. A disposizione il nuovo arrivato Sarli, centravanti che dovrà aiutare Grauberg, mancherà Bartoli, finito KO a Pineto, così leadership della mediana sempre più nei piedi di Alessandro Bruno, affiancato da Blando e dal figlio d'arte Gelsi. Domani al Savini arriverà il sempre coriaceo Matese, rinforzato dall'innesto dell'ex Vittorio Esposito. Avvio in trasferta per l'Avezzano, che però avrà il replay del match di due settimane fa alla Riviera delle Palme contro il Porto d'Ascoli, allora si imposero in rimonte i marchigiani, ora l'Avezzano si aspetta un epilogo diverso, una sostanziosa novità rispetto alla gara del 21 agosto, in panchina non ci sarà Tonino Torti, esonerato domenica scorsa, bensì il neotecnico Marco Scorsini. Questo campionato va gustato, perché l'Avezzano l'anno scorso ha fatto qualcosa di importante, perché vincere un campionato di eccellenza in un girone abruzzese, composto da Lapila, da Lanciano, da grandi realtà, no, da grandi realtà è sempre difficile, è chiaro che noi ci apprestiamo a affrontarlo come una neopromossa, anche se siamo un'Avezzano. Quindi ci vorrà testa, gamba e soprattutto grandissima concentrazione. In chiusura vi ricordo che domani inizierà anche il palinzesto domenicale di TV6, a partire dall'ora 14.55 circa, la prima parte dell'Abruzzo del pallone live, concentrato chiaramente sulle gare di Serie D, poi in serata il resoconto delle gare del pomeriggio, nella seconda parte della trasmissione, e poi la cronaca e il post-gara del match del Pescara contro l'Avellino. Il TG6 termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi dell'emittente. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi dell'Avellino.